I responsabili delle truffe online delle case vacanza proposte nel Cilento sono stati individuati. Si tratta di 20 persone, tutte pregiudicate e tutte originarie del Napoletano e della provincia di Avellino, denunciate a piede libero dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania per il reato di truffa. I controlli sono scattati da parte dei carabinieri delle compagnie di Sapri e Vallo della Lucania, dirette rispettivamente dai capitani Michele Zitiello e Mennato Malgeri. Dopo una serie di denunce partite da alcune delle vittime finite nella trappola dei sedicenti affittuari che imbrogliavano gli utenti pubblicando sul web foto di bellissime spiagge del Cilento e del Golfo di Policastro e annunci di locazione e di case vacanze irreali oppure già impegnate. Si facevano versare addirittura il 50% della quota tramite vaglia postale dopo che i vacanzieri leggevano le inserzioni su un sito. I turisti sottoscrivevano i contratti via mail. L'inganno ovviamente si svelava quando i malcapitati giungevano a destinazione per il periodo di vacanza concordato. Arrivati nel giorno prestabilito trovavano le case ma al loro interno c'erano i veri occupanti. Nel peggiore dei casi invece le abitazioni erano inesistenti. Le vittime delle truffe sono almeno 30 e sono persone provenienti da tutta Italia ma anche da altre parti del mondo. Le indagini continuano.